Sindaco, c'è una smentita di questo caso Covid ieri a Polissena? No, c'è stata una falsa positività, almeno così la definiscono i tecnici, perché questa signora che è stata ricoverata il 14 maggio, al primo tampone, quello che solitamente viene fatto prima del ricovero, è risultata negativa, quindi è stata accolta nella struttura, poi è stata operata. Nel momento in cui doveva essere dimessa per essere trasferita ad una struttura riabilitativa e quindi ha dovuto rifare il tampone, poiché doveva entrare in un'altra struttura sanitaria, a quel punto si è riscontrata la positività. Un fatto che era strano ovviamente, ci ha lasciato un po' sorpresi, ci ha preoccupato, perché dopo che questa signora è stata, ha transitato per molte aree dell'ospedale, quindi non solo il comparto operatorio, ma anche la TAC, il pronto soccorso e tanti spazi comuni, sarebbe stato devastante avere un caso di positività, tant'è che si sono subito preoccupati innanzitutto gli operatori sanitari che hanno fatto subito i tamponi, addirittura nella giornata di ieri sono stati sottoposti al tampone circa 50 unità di personale che ha avuto contatti con questa persona. Dopodiché si è proceduto anche a fare le sanificazioni degli ambienti, il che era comunque sempre un po' riduttivo, perché un ospedale accoglie una platea di persone che vanno oltre i singoli operatori, ci sono 20, ci sono altri pazienti ricoverati. Quindi questo ha fatto scattare l'allarme, fortunatamente all'esito della prova del terzo tampone, addirittura si è poi riprocessato quello che attestava la positività, fortunatamente i tamponi sono stati tutti negativi. Addirittura anche al GOM, dove poi la signora è stata trasferita, hanno praticato un nuovo tampone, quindi stiamo parlando di un tampone aggiuntivo che è stato fatto oggi e il cui esito è stato anche negativo. Quindi possiamo stare tranquilli che effettivamente si è trattato di un errore a questo punto. Lei in una nota dice, l'ASP chiede scusa alla signora? Ecco, è il minimo mi pare, perché è stata trasferita la signora da Polistiana a Reggio nel reparto di malattie effettive, senza avere il Covid. Mi sembra, indipendentemente dall'età, la signora anziana, ma a qualunque età bisogna avere grande rispetto. Certo, non è stato un errore voluto, questo è pure da sottolineare, però ritengo che vadano da parte di tutti. Fate le scuse alla signora e speriamo, che tra l'altro io so che è in buona salute, speriamo si riprenda presto, dalla frattura che era il suo problema principale e poi l'unico, si è rivelato unico.